Gradini di Hermanès Come ogni fior languisce e giovinezza cede a vecchiaia, anche la vita in tutti i gradi suoi fiorisce, insieme ad ogni senno e virtù, ne può durare eterna. Quando la vita chiama, il cuore sia pronto a partire e a ricominciare, per offrirsi sereno e valoroso ad altri, nuovi vincoli e legami. Ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a vivere ci aiuta. Dobbiamo attraversare spazi e spazi, senza fermare in alcun dessi il piede. Lo spirito universal non vuole legarci, ma su di grado e in grado sollevarci. Appena ci avvezziamo ad una sede, rischiamo di infiacchire nell'ignavia. Sol che è disposto a muoversi e partire, vince la consuetudine inceppante. Forse il momento stesso della morte ci farà andare incontro a nuovi spazi. Nella vita il richiamo non ha fine. Su, cuore mio, congedati e guarisci. Grazie.